E' un medley dance, abbiamo fatto un esperimento, abbiamo provato a fare un medley dance perché quest'anno vorremmo andare un po' in giro anche per la discoteca, per fare le corbe, no poi per far ballare anche delle ragazze perché a noi piace molto vedere le ragazze che ballano, abbiamo fatto un esperimento strano che adesso vi facciamo sentire, ok? Ok? Boh, siete lì bene anche lì, ci sono più schiale, tanto noi non ce ne prendo un cast. Grazie. a te ti sento che è troppo come un punto quando ti bello a ballare vorrei volire lai 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 fammi godere lai 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 fammi godere vorrei finire le braccia e faccia il donna con lo che faccia il faccia vita per tutti vorrei forse vedete c'è la tua prova di casa vi accorti qui è guai è tutto necessario perché tu vai ma non c'è come me con tutti i giorni di oggi non c'è 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 musica qui è più Grazie